Come un sole accecante, mi sei sorda nell'anima, inondandola con la tua luce serena. Ti terrò per sempre nel cielo del mio cuore. Amici, parenti, semplici cittadini, ai funerali in piazza San Marco, non solo Venezia e tutto il Veneto, ma l'intera nazione si è stretta attorno alla famiglia di Valeria Solesin, la ricercatrice rimasta uccisa durante gli attentati di Parigi del 13 novembre. Tra i presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Ministro della Difesa Pinotti, il Governatore Luca Zaia e il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in una cerimonia a chi ha unito anche le religioni. Perché, come avete potuto, la vostra cultura ci fa inorridire, ma non ci intimidisce. Non in nome della nostra religione, non nel nostro nome. Ti hanno assassinato, come tutte le altre vittime a Parigi e altrove nelle diverse aree del mondo. La bara, portata a spalla da un gruppo di gondolieri, è stata deposta sopra una pedana rialzata di fronte alla Basilica. In piazza sono risuonate le note dell'inno italiano e francese. Poi, al termine della cerimonia, l'inno alla gioia, eseguito dai musicisti della Fenice. Valeria è stata sepolta nel cimitero di San Michele. Mi è capitato di sentire parole tali, quasi che noi potessimo significare un esempio per molti. Se questo è appena lontanamente vero, questo era dovuto. È dedicato a tutte le Valeria e Andrea che lavorano, studiano, soffrono e non si arrendono.